Ci penso io. Saremo già lì se Roman non stesse guidando Fornox su ruote. È ora di brillare! Siamo chiusi dentro! È una trappola. È una bomba! Allora, idioti, che facciamo saltare? Cosa? Il Vaticano. Wow! Voi andrete all'inferno. Tom! Vieni via da lì! Il grande Dominic Toretto. Se tu non fossi stato dietro a quel volante, non sarei diventato ciò che sono oggi. E ora, sono l'uomo che distruggerà la tua famiglia. Pezzo per pezzo. Me! Ho visto il diavolo. Boom! Domi, sapevo che mi cercavi. Spariamo tutti contro tutti e vediamo che succede. È ora di finirla. Scaviamo qualche fossa. Di te non ci si può affidare. Neanche tu sei sulla mia lista di Natale. È arrivata la cavalleria! Salute. Ci servono armi. E auto. Non è possibile. Non è possibile. Macchine cannone! Ti piacciono le sorprese? Io le adoro. Resterei a terra se fossi in te. Allora dovrei colpirmi più forte. Il gioco è finito, Dom. Hai perso. È l'ultimo giro. Allacciati la cintura, è meglio. Papa! Grazie a tutti.